La presente lezione inizia andando a dimensionare i vari componenti che costituiscono il BAC. Finora abbiamo quindi parlato del funzionamento del BAC, abbiamo parlato del funzionamento in modo discontinuo, abbiamo parlato del funzionamento in modo continuo, a questo punto è importante dimensionare i componenti che costituiscono il BAC. Ovviamente questo dimensionamento è funzione delle caratteristiche dell'applicazione, quindi sarà funzione della tensione d'ingresso, della tensione d'uscita, delle correnti che circolano e così via. Quali componenti devono essere dimensionati? Devono essere dimensionati tutti i componenti che ne fanno parte, soprattutto tutti i componenti di potenza. Quindi vanno dimensionati lo switch, va dimensionato il diodo, va dimensionato l'eventuale dissipatore che si connette allo switch, perché lo switch non è un componente che non dissipa nulla, dissipa nella realtà dell'energia anche abbastanza consistente, si scalda e quindi ha bisogno spesso di essere connesso a un dissipatore per abbassare la sua resistenza termica. Bisogna dimensionare il condensatore di uscita, bisogna dimensionare l'induttore e in questo frangente, una volta che introdurremo concetti anche legati all'induttore e quindi al trasferimento magnetico dell'energia, introdurremo anche il dimensionamento del trasformatore che poi sarà molto utile nella parte che riguarderà lo studio dei convertitori isolati e quindi altri tipi di convertitori che utilizzano appunto il trasformatore come elemento di isolamento elettrico fra lo stato di ingresso e lo stadio di uscita. Il primo componente che dimensioniamo è lo switch. Lo switch, abbiamo detto più volte, non è altro che alla fine un dispositivo di potenza al semiconduttore. Nell'uso corrente per i convertitori ciò per i convertitori di GDC, gli switch più utilizzati sono in buona sostanza i transistori di potenza e quindi abbiamo i power MOSFET, abbiamo gli GBT e i power bipolar. L'utilizzo di un dispositivo al posto di un altro dipende strettamente ovviamente dalle condizioni operative dell'applicazione. In primo luogo possiamo dire che uno di quelli più utilizzati in assoluto sicuramente è il power MOSFET. Power MOSFET che è un dispositivo unipolare. Che cosa vuol dire avere un dispositivo unipolare? Vuol dire che avere considerato un dispositivo la cui conduzione avviene essenzialmente tramite una sola specie di portatori e nell'ambito dei power MOSFET la grande maggioranza dei dispositivi che oggi viene venduto sono il power MOSFET N-Channel cioè a canale N dove i portatori non sono altro che gli elettroni sostanzialmente. Per quanto concerne il power MOSFET il power MOSFET è dotato di una struttura MOS, vuol dire una struttura di tipo metallo ossido semiconduttore che svolge appunto il ruolo di condensatore. Rispetto a power bipolar quindi per esempio il power MOSFET ha questa struttura MOS e una caratteristica del power MOSFET è quello di poter pilotare il dispositivo in tensione invece che in corrente come nel caso del power bipolar. I dispositivi di potenza come nel caso del MOSFET si differenziano per topologie tecnologiche dai dispositivi di segnale. Nei dispositivi di segnale sostanzialmente il flusso di corrente avviene nella superficie del DAI del silicio tra il source e il drain. Nei dispositivi di potenza invece il flusso di corrente passa dal topo verso il bottom. Sul topo del dispositivo abbiamo generalmente presente contatti di source e contatti di gate, nel bottom abbiamo il contatto di drain. Il motivo per cui i dispositivi di potenza vengono realizzati in questa maniera sta nel fatto che con questo tipo di tecnologia si riesce a creare alti livelli di integrazione e quindi sostanzialmente possiamo avere dispositivi con basse RDS on in piccolissime aree di silicio. Come abbiamo detto prima di power MOSFET ne esistono sostanzialmente di due tipi dispositivi che sono N-channel e dispositivi P-channel. Nei dispositivi N-channel i portatori coinvolti sono gli elettroni, nei dispositivi P-channel i portatori diciamo coinvolti sono le lacune. Perché spesso e volentieri il dispositivo N-channel ha il sopravvento sul dispositivo P-channel? Questo sopravvento a livello applicativo si verifica in quanto a parità di die size, quindi dell'aria del pezzo di silicio che noi abbiamo del power MOSFET, il dispositivo N-channel presenta una RDS on che è mediamente la metà del dispositivo P-channel. Questo principalmente due al fatto, questo fenomeno, che gli elettroni sostanzialmente si muovono, hanno una mobilità nel silicio che è due volte quella della lacuna e quindi questo si ripercuote poi in una più bassa regression per area. I dispositivi P-bipolar invece sono dispositivi di potenza, come dice la stessa parola, bipolari e quindi in un dispositivo bipolare il passaggio di cariche avviene in maniera bipolare, quindi sono coinvolti sia i portatori elettroni che i portatori lacune nella conduzione della corrente. A differenza dei dispositivi MOSFET, il dispositivo bipolare è un dispositivo in cui il gate viene pilotato da un segnale di corrente. Anche in questo caso esistono due diverse categorie di dispositivi bipolari che sono i dispositivi NPN o PNP. La differenza consiste nel fatto che un dispositivo NPN è un dispositivo nella quale, diciamo, emettitore e collettore sono drogati pesantemente con elementi N e seppure la conduzione avviene con entrambi i portatori, i portatori maggioritari sono appunto gli elettroni. Nei dispositivi PNP emettitore e collettore sono drogati fortemente di tipo P e in questo caso i portatori maggioritari sono rappresentati dalle lacune. Una terza categoria di dispositivi che negli ultimi anni sta sempre di più guadagnando offerte di mercato nelle applicazioni industriali di potenza sono gli GBT. Il GBT che sta come isola gate bipolar transistor. Quindi il dispositivo GBT è un dispositivo se vogliamo ibrido fra un power MOSFET e un bave bipolar. Perché ibrido? Perché sostanzialmente esso è, e questo lo vedremo anche oltre quando tratteremo poi dei dispositivi di potenza, il GBT è un dispositivo che alla fine è un bipolare di tipo PNP pilotato però in tensione. Quindi cerca di inglobare sia le caratteristiche del power MOSFET in qualche maniera che del power bipolar. Quale deve essere il criterio per cui io scelgo un dispositivo rispetto a un altro? Larghe fette di mercato sono dominate dal power MOSFET. Il power MOSFET è un dispositivo che viene spesso e volentieri preferito agli altri quando si vuole andare a considerare frequenze di switching, quindi frequenze di commutazione, superiore generalmente agli 80 kHz. Il power MOSFET rispetto agli altri due dispositivi che abbiamo poco fa citato, quindi gli GBT e il bipolare, presenta un notevole vantaggio nelle perdite in commutazione. Le perdite in commutazione in un power MOSFET si presentano molto basse rispetto a un corrispettivo GBT o power bipolar. Questo è dettato dal fatto che i power MOSFET sono dispositivi generalmente molto rapidi nel commutare rispetto a questi altri dispositivi. Quindi quando le frequenze sono piuttosto alte il power MOSFET viene certamente preferito e bisogna comunque considerare che il power MOSFET si utilizza per applicazione sì di potenza ma non di vera elevata potenza. In quel caso è preferibile utilizzare altri tipi dispositivi come per esempio appunto gli GBT e il bipolare. Questo perché quando la corrente di conduzione supera determinati valori il dispositivo rispondendo con una RDS-ON invece che con una VCSAT in conduzione dissipa molto più potenza che in questo caso il power bipolar o l'IGBT. Quando invece le frequenze di commutazione non sono eccessivamente elevate, diciamo sono nell'intorno di 80 kHz, allora il dispositivo che si può scegliere come dispositivo ottimale per questo tipo di applicazioni potrebbe essere l'IGBT. Un dispositivo che sicuramente può anche essere scelto sempre in questo range di frequenze è il power bipolar. Però ormai l'utilizzo del bipolare è limitato da applicazioni che io ho scritto veri low cost, cioè applicazioni che oggi sono a basso costo perché il bipolare può essere benissimo rimpiazzato da un IGBT che è per certi versi anche più performante oppure nei casi in cui le frequenze abbiamo dette superiore di 80 kHz con un power MOSFET e quindi oggi l'utilizzo dei bipolari è fortemente limitato a una nicchia di applicazioni soprattutto presente nel campo del lighting. Cosa bisogna fare per poter effettivamente dimensionare quindi lo switch? Allora per poter dimensionare lo switch bisogna andare sempre a verificare quali sono le condizioni operative del dispositivo nelle applicazioni. In linea teorica in prima battuta possiamo dire che le caratteristiche principali per dimensionare lo switch sono sicuramente la tensione inversa di blocco e la corrente che deve sostanzialmente portare il dispositivo. È chiaro che se il mio dispositivo deve cercare di interrompere durante la fase di off e sottoposto diciamo a una tensione di un certo livello esso deve essere progettato per avere una tensione di breakdown che sia almeno di quel livello se non più alta per essere sufficientemente marginati. È anche chiaro che il mio dispositivo se deve essere sottoposto nel stress di corrente di un certo livello deve essere ovviamente dimensionato per portare quel valore di corrente alla quale verrà sottoposto nella condizione applicativa. Quindi questi due parametri sono essenziali alla fine del dimensionamento certamente dello switch. E come dicevo prima è vero sì il dispositivo deve essere dimensionato intanto per sopportare la tensione che esso subirà durante la fase di off o di spegnimento ma questa tensione non è la tensione che noi abbiamo visto nelle forme d'onda diciamo ideale ricavate precedentemente nel caso del CCM del DCM. È una tensione ben più grande perché quando il dispositivo comoda dallo stato on allo stato off interrompe bruscamente il passaggio di una corrente quindi cosa succede? Succede che la stessa induttanza che trasferisce energia dall'ingresso all'uscita per un certo periodo vedendo questa corrente e bruscamente interrompersi genererà istantaneamente una extra voltage e che si aggiungerà all'attenzione alla quale il dispositivo idealmente dovrebbe essere sottoposto che in questo caso appunto è la V con in. Quindi si aggiungerà uno spike chiamiamolo uno spike quindi una extra voltage se vogliamo. C'è un contributo inoltre aggiuntivo alla extra voltage. Questo contributo aggiuntivo alla extra voltage è dato dal fatto che nelle applicazioni reali ci sono delle induttanze parassite certe volte non trascurabili. Voi dovete pensare che lo stesso dispositivo per il semplice fatto che c'è un collegamento con dei fili fra il DAI e i pin del del package di un power MOSFET per esempio questo filo diciamo non è altro che una piccolissima induttanza dell'ordine di una decina di nanoherry ma questa induttanza può diventare consistente quando i transitori di corrente sono piuttosto rapidi. Quindi sia per effetto di questa induttanza presente intrinsecamente sul dispositivo o per effetto delle induttanze presente sulle piste generalmente anche del PCB si possono generare delle extra voltage che si aggiungono ai altri componenti e che vanno poi a stressare il nostro dispositivo durante la fase di spegnimento. Quindi bisogna andare a sovradimensionare sicuramente la tensione di break down del dispositivo. Tipicamente bisogna andare quindi in questo caso a dimensionare la tensione e cioè cercare di considerare la tensione sostanzialmente di spike che sia almeno una una volta e mezzo una volta e tre la tensione di ingresso. Per quanto concerne la corrente che passa nel dispositivo quindi la corrente di conduzione questa corrente di conduzione è anch'essa un parametro che bisogna tenere in considerazione nel dimensionamento dello switch. In realtà ogni data sheet di un dispositivo come può essere per esempio un power MOSFET presenta tutta una serie di caratteristiche che sostanzialmente identificano il nostro componente. Fra queste caratteristiche c'è anche la corrente massima continua che il nostro dispositivo può sopportare. Quindi se io ho un dispositivo che mediamente deve sopportare una certa corrente in quell'applicazione dovrò scegliere per contro un dispositivo appunto che certamente da data sheet mi garantisce una corrente se non uguale anche maggiore di quella che avrò nelle condizioni operative anche qui perché cercare di tenere un certo margine di sicurezza. Perché la corrente rappresenta un parametro essenziale? Perché la corrente che attraversa il dispositivo moltiplicata per le rediesioni, quindi la corrente al quadrato per le rediesioni dà una potenza dissipata sul dispositivo. Questa potenza si tramuta in calore e il calore fa salire la temperatura del dispositivo. Quando questa temperatura assumerà determinati valori limite per il quale sostanzialmente la concentrazione dei portatori intrinseci eguaglia i livelli di drogaggio delle giunzioni e quindi non siamo più in presenza di una giunzione ma siamo quasi in presenza di un conduttore, il dispositivo non è più in grado di bloccare una certa tensione e sottoposto sostanzialmente a fenomeni di fallimento. Quindi bisogna evitare certamente queste condizioni estreme. In realtà oltre alla corrente diciamo continua, un altro parametro che è presente nei data sheet del dispositivo è il parametro cosiddetto corrente impulsata. Cosa vuol dire? Che il dispositivo può essere sottoposto, come spesso accade anche nei nostri chopper, a delle correnti che non sono ovviamente continue ma sono delle correnti che si verificano per un certo intervallo di tempo, magari anche con condizioni piuttosto stressante, cioè con valori piuttosto elevati, ma che poi a questi istanti di tempo susseguono degli istanti di tempo in cui magari la corrente non c'è più. Ovviamente il parametro sulla corrente impulsata è più alto che sulla corrente continua e generalmente se noi andiamo a guardare un data sheet dei moderni dispositivi notiamo che il limite della corrente impulsata è circa quattro volte quello della corrente continua. Un'altra cosa da dire sulla corrente continua è la seguente cosa. Spesso i dispositivi non vengono, questo limite in corrente continua non viene tarato in funzione del limite fisico del silicio, ma viene tarato in funzione del limite o addirittura dei fili che collegano il DAI ai piedini del dispositivo, cioè sono proprio quei fili che per effetto di un eccesso di corrente potrebbero a un certo momento rompersi e quindi far fallire il dispositivo stesso.